ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video e con questa puntatella andiamo ancora a scremare il numero di video rimasti indietro perché c'è stato un momento della mia vita nella quale avevo circa tre mesi di ritardo sui video da guardare e quindi diventava anche un pochino noioso cioè anche un pochino irritante per chi mi aveva inviato i video poi doveva attendere così a lungo c'era per c'erano persone che non li mandavano due volte per quello che è capitato di pubblicare lo stesso video due volte perché io nella mail quando rispondo lo dico no mandate il video una seconda volta verrà pubblicato fa 60 giorni lo mandavano io non ricordandomi più il primo e pubblicavo anche il secondo in questo caso adesso stiamo stiamo pubblicando i video di novembre quindi siamo a novembre anche se siamo verso la fine siamo novembre e quindi siamo esattamente in target se mi mandate il video in questo momento qua il tempo di pubblicazione è sotto il mese quindi ci siamo siamo veramente quasi in tempo reale e sto cercando in questo periodo come vedete un video al giorno di scremare di scremare le cartelle boom 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 e diminuiscono sempre di più chiaramente questo ritmo così elevato mette in crisi anche la scimmietta chi non riesce più a capire quali orologi vuole fortunatamente la sto mettendo in crisi e forse può essere un trucco anche per voi gliene fate vedere così tanti no che poi dopo non capisce più niente e si va in schermo blu si ferma e va in stand by quindi voi siete salvi e poi capire se siete salvi è positivo o negativo perché se non prendete orologi poi dopo la scimmietta poi si risveglia allora amici l'orologio del giorno oggi è questo simpaticissimo è rolex yacht master da 40 mm 40 quadrante blu lancetta rossa bellissima che spicca il suo bel calibro 32 35 con tutta la qualità dei meccanismi di casa rolex che lo sappiamo no c'è poco da dire sono inflazionati sono noiosi sono ovunque tra virgolette ma sono fatti bene questo è poco ma sicuro detto questo adesso bando discorsi inutili dito infuocato è anche un pochino inquisitore e partiamo con il primo video guardiamo un po la curiosità di sapere cosa c'è dietro a questo schermo le persone che sono dietro lo schermo sempre bello ciao davide sono vincenzo e sono qui per mostrare a te e a tutti gli amici del canale gli orologi che posseggo non mi ritengo un collezionista ma semplicemente una persona che acquista gli orologi perché mi piacciono e perché provo piacere nell'indossare bravo così ti voglio e adesso ti passo e rassegna velocemente alcuni orologi che riguardano nel mio passato questo è un quarzo un loros crono ora oggetto di poco conto però a parte il mio passato lo mettiamo qui è molto lontano te lo approvo passiamo poi a questo prc 200 è un tisso anche questo al quarzo questo è stato il primo regalo della mia allora fidanzata oggi mia moglie quindi lo conservo con un certo affetto e devo dire che nonostante il tempo è un orologio che mi piace ancora ma c'è un po più vicino rispetto all'altro così la signora non si offende bravo poi abbiamo il mio orologio da battaglia bello 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 Hamilton quarzo che è un lavoretti di casa le manutenzioni il giardino difatti vedi vissuto graffi botte ne ha prese di tutti i tipi ma nonostante ciò è un orologio che non si ferma mai ricordarsi ogni tanto di sostituire la batteria che è in fin garda adesso ti mostro midiver partendo da questo bellissimo mido ocean star tanta roba quadrante blu ghiera blu bracciale maglia milanese acquistato nella gioielleria pasquali e domenici bravo corredato anche del suo cinturino in pelle blu che alterna al bracciale perché questo è un orologio prettamente estivo e di estivo ne ha tutte le fattezze bellissimo questo quadrante è veramente spettacolare piace anche a me orologio che io ritengo di una grandissima qualità sì certo lo è passiamo poi sempre diver la luce in hidro conquest quadrante verde ghiera verde questo acquistato con il suo cinturino in gomma verde abbinato al quadrante successivamente ho acquistato il bracciale originale longin speso a gli alterno e per renderlo anche più sbarazzino perché essendo un orologio di e maschio e massiccio rispetto al mido e più di presenza certo però il longin la qualità non si discute non si discute ma per l'amore bravo così ti voglio dopo lungi in a siamo a oris cavoli c'è un tritico questo tra questo oris aquis si riesca a metterlo a fuoco eccolo qua oris aquis calibro 400 calibro di minifattura dell'oris e anche questo gran grande orologio rifinito in maniera egregia comprato con il suo bracciale scusate il suo bracciale d'acciaio successivamente ho acquistato anche il cinturino in gomma c'è ancora la pellicola ma da un gran bello orologio è veramente bello questo quadrante nero spettacolare pare grigio tra l'altro così ho completato i tre colori o il blu o il verde verde e il nero ultimo diver ultimo diver e andiamo nella famiglia panerai oh che bello luminor top questo monta il calibro a carica manuale p 5000 8 giorni di riserva di carica solo tempo e piccoli secondi questo qua sarebbe probabilmente cioè il panerai che fa per me è questo qua con i piccoli secondi 8 giorni di carica un bel calibrino dentro 44 questo no di millimetro questo potrebbe essere tranquillamente credo un classico è un classico come la giacca la cravatta e panerai e panerai che si fa notare di presenza ma ci piace o non piace bisogna accettarlo così ora o piace o non piace però può anche succedere che non piace poi piace come è successo a me come è successo a me probabilmente perché a un certo punto a forza di vedere di orologi standard no tutti dello stesso della stessa misura della stessa fattezza no certo punto qualcuno a certo punto si arriva a volere qualcosa di differente che si riscosta un po dal resto no cartier santos e il panerai oppure anche un uboat o qualcosa che solitamente uno disdegna così a prima vista perché un po troppo differente dal solito poi dopo quando sempre la solita minestra dice ma fammi un po provare a assaggiare qualcosa di differente bluf e va a finire lì insomma e abbiamo concluso con i diver poi mi serviva un orologio serve ti serve sempre a rossare serve quando gli abiti quindi un dress watch e sono andato nella famiglia federico stand bravo questo è l'ultra slim sempre automatico orologio veramente sottile al polso sembra proprio di non averlo si vedessero bene le immagini guai rifinito in maniera igreggia ma che che postazione ha messo la camera c'è molto sobrio veramente un dress watch che per quello che costa fa una sua gran bella figura e direi di sì non lo ricordavo sto orologio qua bello assai poi ti mostro un acquisto di pancia questo è un glycine the chief un orologio con tutta una sua storia ripeto è stato un acquisto di pancia perché l'ho visto mi è piaciuto e l'ho comprato dopo averlo comprato mi sono reso conto che ci sono alcune cose che non sono proprio l'ideale il quadrante è un po affollato non è di facile lettura nonostante abbia un quadrante blu con numeri bianchi indici bianchi lancetti bianchi quindi un forte contrasto è troppo affollato non si riesce te lo dico io cos'è che non si riesce cioè c'ha queste quattro io ho fatto questo fermo immagine qua a queste quattro sfere bianche ora te quando arrivi al colpo d'occhio ti non riesci a capire che ore sono già sono sulle 24 ore quindi devi capire che se la freccia grossa lì e su e lì e sta segnando le 17 sta segnando non è che sta segnando le 8 sta segnando le 17 quindi lì e poi le sfere lì si confondono non capisco quali sono i minuti quali minuti cosa sono le 17 e 25 35 o le 17 e 20 19 poi se vogliamo metterci anche quella dei secondi che bianca uguale ecco io non avrei mai comprato questo orologio già gli orologi sulle 24 ore non non li sopporto ora io ve lo dico adesso che non li sopporto poi fra due anni mi vedrete con tutti gli orologi con le 24 ore può succedere anche questo ragazzi non è che io io vado in base al mio gusto al momento poi se lì se cambio il gusto pace bene fratelli cosa volete che vi dico non è che è legge incisa sulla pietra però questo qua non lo prenderei non ce la faccio cioè già le 24 ore non le sopporto e poi così bianca con queste sfere che tre sfere quattro sfere bianche che sparano un po in qua un po in là o ma prima che capisco l'ora faccio prima tirare fuori il cellulare guardarla cioè no non fa per me no non farebbe per me bello è bello assai bronzo magari sarà anche un 36 di diametro non lo so bello contenuto piccolino che può fare la sua figuretta ma non lo vorrei mai non è di facile lettura tutto qua un'altra cosa che non mi è piaciuta io credevo di acquistare un orologio con cassa in bronzo mentre in realtà è una cassa acciaio con trattamento pvd bronzo ho sostituito il suo cinturino originale che era in pelle marrò e ho montato questo in in gomma che è della serie combat per renderlo un po più leggero a me piace molto di più così ripeto è un orologio che mi piace nelle sue fattezze è importante magari quando l'indossi non preoccuparti di vedere l'orario ma semplicemente perché è bello ma così non va bene non mi piace sta storia qua poi ti hai detto che pensavi fosse di bronzo e invece era un calesse questo succede quando fai quello che hai detto che hai fatto all'inizio l'ho visto di pancia mi è piaciuto l'ho comprato o bene ci sta è ci sta però si fa poi incontro a delle cose spiacevoli perché la maggior parte di noi cosa fa un orologino se lo studia prima di comprarlo ci passa anche delle giornate delle ore anche dei mesi c'è gente ci passa anche delle mesi prima di prima di decidere no i pro e contro questo contro qua ti guardi le recensioni che si le facciamo apposta cioè tra avrei se tu avessi visto una mia recensione di questo orologio avresti visto che è in pvd invece che in bronzo no e già lì avresti messo la croce sopra quando saresti passato per la strada lo vedi no non lo voglio perché il pvd non è in bronzo te ne saresti accorto con un minimo di attenzione ruotando l'orologio e nel momento in cui vedi il fondello che è color bronzo vuol dire che non è bronzo perché i fondelli li fanno tutti in materiale differente da bronzo in modo da non interagire con il polso con il ph della pelle e che fa rilasciare poi insomma l'ossido no quindi ti macchia la pelle quindi fanno sempre il fondello negli orologi in bronzo in acciaio in titanio un altro materiale questo caso è tutto color bronzo e tu doveva venire il dubbio no questa è la fregatura di prendere gli orologi di pancia senza studiarli un pochino prima poi può capitare a tutti e a me mi capita per esempio con dei vintage magari che quando prendevo i vintage così a caso sulle bancarelle l'ho fatto ti solo presi zeniti l'ho presi mi è sempre andata abbastanza bene poi studiavo dopo ma sugli orologi nuovi no sugli orologi nuovi studio prima di acquistarne uno è anche se vado in un posto dove ci sono gli orologi nuovi una fiera no non mi azzardo se non ho studiato prima quel modello lì di comprarlo così di pancia anche perché stai spendendo non 100 euro per un vintage ma mille euro per un orologio ne ho capito quindi con calma poi un orologio che indosso tutti i giorni tutti i giorni questo hamilton cacchi con il suo bel cinturino vissuto questo è veramente un orologio che indosso spessissimo lo metto su qualunque cosa è un po come il prezzemolo va bene dappertutto un orologio prezzemolo tra l'altro è un orologio che c'ha oltre oltre 15 anni va proprio una meraviglia indiscussa si legge anche bene se per essere bianco da promosso per finire volevo un orologio da mettere nelle grandi occasioni occasioni ho preso questo gran data tudor big date si con calibro di manifattura non è che mi fa impazzire oro e accenni fa impazzire quadrante champagne è un orologio che è bello di spessore si si fa notare sia per le dimensioni che per le fattezze per le finiture però lo indosso rare volte però devo dire che quelle poche volte che lo indosso attira l'attenzione è un orologio che si fa si si fa notare ma come si chiama con piacere il quadrante è un bel quadrante un bel colore a me non piacciono moltissimo gli orologi acciaio d'oro a me sì però devo dire che questo mi ha conquistato e invece a me non suo un suo fascino ok davide grazie grazie a te lo spazio che mi darai se me lo darai continuo così con il tuo canale un saluto a te e a tutti gli amici che seguono questa questo questo tuo canale e al presto ciao 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 niente quest'ultimo modello qua non mi non non l'avevo mai visto oppure se l'ho visto non mi ha colpito l'ho lasciato da parte questo tudor qua ce l'ho sulla punta della lingua il il nome della famiglia di quegli orologi lì ma non mi viene in mente tudor non mi viene in mente style tudor style style forse non mi piace non mi devo dire la verità non mi piace non non è non tanto per l'acciaio e oro che io sono un amante degli orologi in acciaio e oro non tutti cioè quelli che mi piacciono chiaramente quelli fatti in un certo modo che mi deve piacere questo qua no che poi tra l'altro io penso che tudor utilizzi non il 18 carati massiccio ma incamiciare oro incamiciato capito cioè c'è una una parete di oro che circonda l'acciaio inox quindi vabbè poco male però non mi fa impazzire per il resto tutti gli orologi validi non ti posso dire niente ma nemmeno sui quarzoni all'inizio vanno benissimo anche quel emilton al quarzo che mi fa un po via il cuore sentire un emito al quarzo però va bene cioè va bene nel senso che se anche te consapevole per l'utilizzo per il quale lo hai preso no poi invece gli altri quelli che sono meccanici sono tutti validi nonostante possano non piacermi come lì glissina che non rientra nei miei gusti no i tre diver sono perfetti quindi ti darei anche un sette e mezzo sette e mezzo anche perché a parte le riprese l'esposizione da appassionato tutto perfetto ma le riprese con quel fuoco che andava e veniva veramente troppo veloce ci deve essere qualche impostazione sbagliata non so se il telefono la telecamera quello che è comunque sette e mezzo te lo sei preso perché punta di diamante il panerai il panerai quello lì che potrebbe essere tranquillamente il mio panerai quello lì con le piccoli secondi quella forma di cassa lì otto giorni carica manuale senza data sì 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 vediamo un po cosa dire al futuro è prossimo video ciao davide ciao a tutti iscritti del canale sono giovanni vi racconto la mia collezione da messina vai inizio subito col forza intero regalo della mia fidanzata ora mia moglie del 2006 un bello bello un cronografo molto bello al quarzo a batteria sa che la batteria e lo so tantissimo infatti già il cinturino è stato cambiato anche il movimento interno segue stato non è rimasto più niente anche la la corona è stata cambiata però ci tengo ancora lo uso accidenti secondo sacco di anche questo è un corso regalo di laurea un altro cronografo un mondia ma pensate pensate mondia che orologi fa faceva ma perché anche questo anche se è un quarzo e ho scoperto quanto può valere lo uso pensate mondia lì che orologi faceva fa non fa briga perché perché fare una una mezza copia del navi timer di brae anche tuttora c'è tuttora ora ultimamente non sono più andato ma recentemente andavi sul sito di mondia vedere c'erano le copie dei submarini dei gmt perché una casa così deve fare gli orologi copia per far cassetta no proprio veramente mercificare il concetto di orologio va bene d'altronde è un business e voglio dire siamo tutti qua a vedere gli orologi che li comprano e li vendono io faccio le visualizzazioni guadagno i soldi con le visualizzazioni è tutto un business però alla base ci deve essere la passione un minimo di ricerca di interesse no se no va beh dai anche qui dovevo cambiare il centurino verrà distrutto ma butta via tutto passiamo agli automatici questo è quello da tutti i giorni casual suiosa è simpatico sempre presente sul canale lo preferito un colore blu molto più secondo me sfruttabile rispetto a tanto quelli belli come arancione e verde che probabilmente dove un po' erano difficili sia ad abbinare e potevano anche stancarmi il punto del colore il fatto del quadrante colorato o meno cioè a un certo punto è dato anche da da quanto grande è la tua collezione di orologi da quanti orologi colorati hai o meno perché anch'io lo penso come te cioè preferisco gli orologi blu grigi neri eccetera eccetera però poi a un certo punto quando vedi che c'è 20 30 orologi blu neri grigi e dici e che minchia ma un po' di colore differente no allora ti butti sull'arancione che pur sempre un colore professionale considerato professionale per i diver un può essere anche un giallo no un rosso ti butti poi a un certo punto per cambiare per avere qualcosa di differente se no tutti monocromatici questo blu classico va bene un po' per tutti va bene dai vuoi? continuo con il primo acquisto consapevole bello bravo che questo diver Hamilton scuba 40 di colori blu e dettaglio arancione arancione un po' di arancione ce l'abbiamo movimento ETA davvero bello bello fondello chiuso ovviamente ci ha ragionato tanto budget poco meno di 1000 euro poco meno di 1000 euro guardavo il fondello è uno dei pochi Hamilton con il fondello chiuso è anche bello piatto filo bene soprattutto per questi diver qua così che non si vede se non non si veda il calibro poi l'h10 che c'è dentro no sempre l'ETA C07 sempre il solito che non è niente da ammirare no è giusto che sia chiuso lì così poi c'è pieno di diver del passato che avevano calibri di fornitura normalissimi ETA 28 24 o quelli di fornitura che usavano anche prima quei fondelli chiusi e nessuno vede dentro cosa c'è ti interessa l'orologio no più che il calibro a questi livelli qua anche se l'h10 per amore del cielo è uno di quelli più precisi che ci sono in commercio eh ben venga però bello chiuso così eh fa la figura da professionale da aumento da persona seria fa la figura da persona seria e secondo me questo era il migliore in questa fascia di prezzo sì poi in particolare perché si è un diver che non è un diver professionale però è anche un field con l'interno del quadrante con i numeri ehm h24 è vero è vero dopo di questo ti presento invece l'orologio che mi hanno regalato per il matrimonio dei miei suoceri oh che è quello che uso quasi sempre sotto l'abito è un philip watch un philip watch automatico movimento svizzero poi lì giù ah a metà l'ho fatta a metà che cazzata è questa no è bello sì magari forse prima si usavano l'orologio più spesso infatti questa forse è la cosa che poi ti ho io non so quante ma bicchier mi fa impazzire il fatto che sia veramente così bombato eh però sotto il vestito ci sta scompare scompare poi tutto bianco tutto bianco non mi piace non lo comprerei mai ma nemmeno 100 euro questo invece è il loro due di tutti i giorni con quest taglia da 39 consiglio che io ho un polso da 16 quindi siamo veramente al limite sì è bellissimo qua lo trovi ora con un cinturino nero ma ho da parte il suo cinturino il suo bracciale originale in questa versione total black mi piace di più lo trovo più comodo bello bello sei promosso non mi piace a me questo forse ripensandoci l'avrei preferito blu perché blu è il mio colore che che amo di più amo di più e che comunque si abbina più facilmente ai miei abiti però total black blu è immortale poi allora che facciamo? concludo facendoti vedere i miei due vintage ah c'è anche due vintage nonno paterno nonno paterno questo qua è quello nonno paterno è un soffior che è una teoleria di Messina che negli anni 60-70 faceva orologi con meccanismo svizzero non saprei dirti il particolare però si 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 ne ho avuti anch'io e ci siamo molto affezionato in oro in oro addirittura eh ma strano che sia durato fino ai giorni nostri in oro così e dovrebbe essere tutto originale tranne la corona e ovviamente non il centurino ho detto strano che sia durato fino ai nostri giorni un orologio così nel senso che essendo una marca minore ma molto minore quasi sconosciuta praticamente sconosciuta è una cassa in oro col fondello in oro la prima cosa che uno fa è prende le parti in oro le vende come oro e si dice al peso dell'oro no? quindi i soldini li fa è strano che sia arrivato perché a un certo punto comprare un orologio così della soffior in oro piena a costare un sacco di soldi spenderceli eh comunque ce l'ho avuti anch'io beh io penso tre soffior perché c'era un periodo che si trovavano sui beli avevo trovati NOS chiaramente fondo di magazzino perché chi li compra e mi ero fissato me ne ero presi mi sembra non tutti insieme scaglionati nel tempo addirittura c'era uno bellino bellino quello col bracciale integrato 34 millimetri ci ho fatto anche un video sì mi sembra di sì uno poi l'ho regalato a Piero un altro ce l'ha avuto i tre finisco con un oro e magari ci tendo di più perché è quello che una volta aggiustato mi ha fatto partire la passione è questo di mio nonno materno bello è un wonder watch movimento suizzero cronografo tutto in oro tutto in oro olandero beh tutto in oro usava cioè anche qui è originale tranne la corona e ovviamente il centurino e vabbè la corona spero di farti avere altri video con nuovi orologi sarei molto tentato da quelli di lusso omega o rolex ma anche una via di mezzo tra quelli che hai visto tipo un ti so gentleman a presto un saluto a tutti a presto ciao 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 niente è una correzioncina nemmeno troppo esagerata dai pochi pezzi misurati mi sembra aver capito insomma i due orologi d'oro alla fine vintage sono di marchi sconosciuti ma sono carini sono carini soprattutto quello che si era del nonno il cronografo landeron anche se il landeron era un calibro diciamo entry level di fascia bassa però un orologio in oro perché usavano proprio era l'orologio elegante doveva essere in oro capito e quando non potevi permetterlo in oro allora lo compravi quello placato per quello che hanno hanno iniziato a farli anche placati per matchare quelli in oro senza spendere una cifra elevata l'orologio elegante da cerimonia della domenica era in oro doveva essere in oro 50 anni 60 no quelli d'acciaio erano destinati all'uso comune a zappare i campi perché in quel periodo l'orologio era l'unica fonte di conoscenza per il tempo cioè o ascoltavi le campane o la radio il segnale orario la televisione se no vabbè l'orologio della chiesa il campanile quelle cose lì quindi l'orologio al polso serviva ecco detto questo ti do un 6 e mezzo perché insomma dai non mi posso sbilanciare più di tanto il pezzo mi sembra più la punta di avanti della tua collezione è rappresentata dall'emilton khaki scuba quindi 6 e mezzo insomma c'è tempo per migliorare e nel migliorare te ti piacerebbe omega o rolex che costano 8000 euro nuovi 9000 partiamo da quella cosa lì e poi dici una via di mezzo il tisso che il tisso costano anche 700 800 euro cioè c'è la via di mezzo non è quella perché il tisso è a livello dell'emilton che hai te ora a livello di prezzo parlo no quindi qualcosa di via di mezzo sarebbe qualcosa da 1000 da 2000 che incomincia a prenderci dei signori orologi a tutti gli effetti vabbè comunque non ti posso suggerire niente perché il campo è talmente ampio che non conoscendoti non conoscendo le specifiche non conoscendo quello che vuoi cosa ti suggerisco guarda su un longin e con quello non si sbaglia mai è un longin vai pigli da 2000 euro però devi mettere a parte i soldini mattoncino su mattoncino per costruire il desiderio la scimmieta ci pensa la scimmieta a costruire il desiderio te metti il mattoncino che lei ci pensa prossimo video ciao davide ciao giuseppe della giuseppe svizzera e ho una collezione di orologi veramente molto vasta meno male e non basterebbe un'ora per fartela vedere tutta mi limito a mostrarti alcuni dei miei vintagini che considero più interessanti iniziamo immediatamente con un sima militare anni 40 orologio veramente stupendo carica manuale e il pulsante alle ore 2 serve per regolare per la regolazione dell'orario come si non roggio che sarà un 43 di diametro quindi bello grande veramente stupendo poi passiamo subito carica automatica con micro rotore addirittura è un meccanismo buren è proprio una macchina di manufattura buren orologio veramente stupendo questo calibro si trova anche in altri orologi di altre marche però è proprietario della buren stupendo e buren è una marca storica peccato che sia scomparsa che nessuno abbia pensato a tenere la galla è anche quella che praticamente partecipò al consorzio con emilton non mi ricordo più chi per la corsa al primo cronografo automatico della storia nel 69 no c'era zenith c'era seiko e c'era il consorzio cappeggiato da buren emilton c'era tagoyer c'era tagoyer oyer eh buren poi poi zenith ecco l'ultimo alta frequenza veramente bellissimo automatico qui veramente veramente perdo non è inutile i commenti sono assolutamente inutili ce l'hai fatta dai l'orologio parla da sé è mutuo mi sembrava mutuo a me però vabbè iwc automatico iwc international watch company in oro 18 carati ah anche questo veramente stupendo simpatico non so cosa ne pensate voi è bello io lo trovo veramente stupendo sì bisognerebbe averlo per le mani poi per capire per te che sei appassionato di long jean c'è qui una bella chicca un orologio assegnato al personale della long jean per i cento anni della long jean accidenti veramente bellissimo stupendo sul suo originale bello cioè la qualità di questo orologio è veramente anche del bracciale è veramente 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 alta me lo regali veramente bello veramente bello proseguiamo con un long jean orologio che potrebbe benissimo anzi che sappiamo benissimo essere stato acquistato verso la fine degli anni 30 come del durante cioè scusa verso la verso la metà degli anni 40 quindi sto facendo una grande confusione allora orologio che è stato acquistato durante la prima guerra mondiale no durante la prima guerra mondiale no ti stai impappinando su impappinando non si capisce niente non è un orologio da prima guerra mondiale questo sicuramente no secondo me eh già durante la prima guerra mondiale erano cioè li usavano in trincea non è che nella vita quotidiana si utilizzassero gli orologi dal polso esisteva ancora forte l'orologio da tasca perché l'orologio da polso veniva considerato da donna poi durante la prima guerra mondiale in trincea utilizzare l'orologio da tasca significava dover mollare il fucile tutto e tirare fuori l'orologio guardare l'ora rimetterlo dentro ti arrivava il colpetto e eri morto quindi hanno detto ma perché non ce l'attacchiamo al polso eh trac sono attaccati al polso lì hanno detto cazzo ma se i soldati c'erano al polso è una roba virile è veramente da macio e allora è iniziata a cambiare e è diventata la moda dell'orologio da polso anche per l'ometto e questo qua del 1914 no da quindi veramente un bel orologio sappiamo perché dietro c'è una dedica e si sa quando è stato acquistato eh ma c'è scritto 26 agosto 1944 ah vedi che non è 1914 ma ma te c'è le idee confuse veramente qua c'è scritto Anton in tedesco Zurich per i 25 anni di servizio in tedesco 26 agosto 1944 ed è 44 l'astrologio non è dei 14 bellissimo la dedica che io non mi sognerei mai di cancellare per l'amor del cielo ci mancherebbe andiamo avanti però Zenit bello questo a farvelo vedere eh sì col bracciale così bello bellissimo piace questo DeFi con la data ore 3 strano in condizioni più o meno accettabili tutto originale naturalmente io non mi sogno neanche di farlo lucidare questo orologio ma no mi piace così come ma certo certo poi vai un po' a scatti eh Omega Speedmaster 1861 esaliter orologio veramente stupendo anche qui a buon intenditor poche parole cosa vuol dire non parli andiamo avanti vai a scatti vai silenzio dove vai perché dove li mettete gli orologi Enicar Enicar Sherpa Sherpa bellissimo bellissimo anche questo veramente bello veramente bello aspetta che lo apro così vediamo le condizioni anche del fondello ah lo apri nel senso così non è che lo apri veramente bello dai ma è simpatico Enicar Sherpa svegliarino che bellino mettilo dritto però veramente bello è un placcato sì esisteva anche in oro lo stesso identico orologio anche limitato a 999 pezzi è la rovese però io ho sempre avuto il placcato e a me questo orologio piace lo stesso certo che ci piace dove vai perché e per ultimo questa volta vi mostro questo Zenith io sono un grande appassionato di questi orologi qui vintage cosiddetti tre lancette nel senso che sono di diametri intorno ai 34 36 cosa c'entra tre lancette con solo tre lancette sono orologi che io amo molto questa era una minima parte della mia collezione va bene spero che pubblicherai questo video lo pubblichiamo grazie mille grazie a te ciao 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 lo pubblichiamo anche se andavi a scatti cioè dicevi una parola poi mezz'ora di pullman poi un'altra parola va bene sette ti do sette perché tutti gli orologi bellini vintage tutti carini tutto quello che vuoi ora ho visto anche anche un terzo orologio l'ultimo qua lo Zenith con le dediche dietro al fondello incisa è ganza sta cosa a me piace perché mi identifica mi data subito l'orologio a quel periodo lì cioè non mi interessa se si rovina per chi può valere meno cioè se fosse un orologio di quelli da collezione costosiva no mi piace che c'era la dedica c'era uno c'era un longin con la dedica di dietro dell'80 mi sembra e questi qua i due longini mi piacciono sì quello del 44 e anche l'altro quello del 67 c'era scritto 1867 1967 il centenario pensate perché l'ongine si considera nata nel 1867 anche se a volte vedete che c'è 1832 1832 a certe collezioni si chiamano così lo trovate spesso questo perché era il primo la bozzo di officina il laboratorio nel quale Ernest Francion costruiva gli orologi nel 1832 poi nel 1867 che si è messo con Agassi l'orologiaio e hanno acquistato un appezzamento di terreno in Svizzera che era chiamato appunto le longines l'appezzamento e da lì hanno iniziato a marchiarli longines quindi il numero 0 è uscito lì nel 1867 quelli prima erano roba artigianale fatta in giro insomma siamo capiti il voto te l'ho dato si un 7 7 è abbastanza congruo diciamo per quello che abbiamo visto tutti belli tutti belli tutti vintage tutti tre lancette da 30 come dici belli 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 ciao Davide ciao a tutti gli amici del canale sono Claudio da Milano stasera vi faccio vedere la mia piccola collezione che è iniziata circa 20 anni fa 20 anni fa quando il mio padre mi regalava per il diciottesimo questo orologio un seiko molto bello che bello che mi acquistò a sua volta all'inizio degli anni 80 in un viaggio di lavoro in Giappone mi sono recato più volte in boutique per capire che se ci fosse una storia legata a questa parte la mia personale ma non mi hanno saputo dare molte informazioni e quindi lo tengo come cimeglio di famiglia purtroppo è diventato un Frankenstein perché ho perso l'impermeabilità ho dovuto far cambiare il cinturino perché si era rotto completamente adesso lo dovrò sostituire nuovamente perché l'ho usato talmente tanto che è diventato logoro quindi forse gli farò fare anche una pulizia della cassa però questo è sempre stato diciamo così uno dei miei orologi preferiti non tanto per il design che mi sembra abbastanza tradizionale nulla di stupefacente ma quanto più per il legame affettivo che mi porta Don Frankenstein gli hai cambiato solamente il cinturino e lo chiami Frankenstein cioè è normale cambiare bracciale ci può mettere anche un pelle rimane sempre l'orologio che era non è che è un Frankenstein perché gli cambi è come cambiare le scarpe a una persona poco più però quello che mi ha colpito è che volendo sapere la storia che c'è dietro l'orologio si è andato in boutique ma sanno una sepia in boutique ma di qualsiasi marca di qualsiasi non vorrei mica pensare che chi vende gli orologi sia poi così appassionato da sapere tutto di tutti gli orologi anche quelli vintage ma assolutamente no boutique secco è già tanto se sanno le referenze no studiano di fare un corso per quelli che devono vendere non è che sono appassionati della storia di secco per sapere la storia di quello devi andare devi fartela te la ricerca devi andare sui forum devi comprare dei libri cercare sui le riviste d'epoca quando vai ai mercatini magari dell'usato non guardare solo gli orologi guarda anche le riviste la rivista del 1963 e la sfogli e guardi dentro se c'è qualche articolo dedicato agli orologi o anche pubblicità ed è lì che vai a beccare proprio la cosa che era contemporanea in quel momento e che a te ti interessa cioè una fonte di verità assoluta diciamo no devi farti la te la ricerca con internet oggi si può fare quello che vuoi tra i forum i collezionisti magari fare anche delle ricerche su internet in giapponese saperlo no però andare in boutique con l'orologio poi gli interroghi cosa mi sapete dire su questo e figurati se loro ti sanno dire qualcosa ma è normale non c'è da scandalizzarsi questo orologio il primo che mi sono comprato da solo quando mi sono appassionato insomma di questo mondo è sempre un Seiko un Diver questo che assomiglia un po' al Fifty Phetons di Blank Pen un orologio che secondo me per il prezzo che ha è eccezionale ingombrante io ho un polso abbastanza grande quindi 19 e mezzo di polso questo qui il calza pennello gli ho cambiato lui arrivava braccialato l'ho cambiato gli ho messo il cinturino in pelle che secondo me è un buon contrasto anche con questo colore si orologio con il suo fondello in vetro zaffero che direi che fa la sua porca figura fa vedere il movimento che non ha nessun tipo di particolarità però nonostante questo credo che abbia un buon design una luminescenza perfetta l'ho usato molto spesso continuo ad usarlo e mi dà molte soddisfazioni molte soddisfazioni l'ho usato finché poi non ho compiuto 30 anni la mia compagna mi ha regalato questo solo in Italia non vendevano l'avevo cercato l'ho trovato mi è piaciuto subito lei se l'ha fatto spedire dal Giappone continuo a ringraziarla tutt'oggi è solare carica solare un cronografo meraviglioso e anche questo arrivava braccialato io non sono un grande amante dei bracciali quindi gli ho fatto sostituire il cinturino cioè questo l'ho sostituito io ho messo un nato in pelle che ormai è logoro anche questo dovrò sostituirlo nuovamente e dopo aver preso questo Seiko che ho vissuto veramente tanto sono caduto nella trappola dei quarzoni perché mi sono innamorato del quadrante di questo Timex che mi hanno mi hanno regalato per fortuna dei miei amici nel senso che l'avevo visto su internet l'ho condiviso insomma nel gruppo di miei amici che ci scambiamo un po' di fotine di questi oggetti loro l'hanno trovato me l'hanno fatto portare e me lo regalarono un compleanno 4-5 anni fa non ricordo è stata veramente una cosa improvvisata che mi ha fatto tantissimo piacere nonostante sia un quarzo secondo me ha un quadrante molto simpatico ben bilanciato le finiture sono belle poi Timex comunque è una marca che a me attira per certi versi anche se non fanno prodotti di altissima gamma però insomma anche questo lo sto usando parecchio e mi piace molto te lo approvo poi nel mio percorso sono incappato in ragazzi su Kickstarter che stavano promuovendo questo tipo di cronografi quindi sempre stavolta panda quindi quadrante completamente bianco contrasto mi è piaciuto anche questo carica meccanica ho detto perché no aveva un costo ridotto mi piaceva molto il disegno di questo orologio lo riconosco non conosco questo marchio qua ng mai sentito parlare 21 rubini questo qua poi il b-compax sicuramente dentro c'è il calibro seagal st19 a carica manuale niente di male benvengano gli orologini con questo calibro qua che con pochi soldi ti tolgono l'usfizio di avere un cronografo meccanico però si carino non so non saprei esiste ancora boh e anche lì semplicemente sostituendo il cinturino e mettendogli questo cinturino tipo rally gli ho dato anche un aspetto un pochino più come dire racing modaiolo se vogliamo ha una casa abbastanza sottile tutto sommato lavorazioni molto tradizionali però direi che al polso fa anche lui la sua figura ma certo dopo questo mi sono lanciato nella malsana idea di provare a sistemare anch'io degli orologi e quindi mi sono recato un mercatino ho trovato l'orologio più brutto che potessi trovare un orologio russo che ha anche un suo interesse in realtà volevo provare a sistemarlo perché lo vendevano per rotto e infatti continua a esserlo però lo tengo come ricordo perché l'ho smontato la lancetta dei secondi piccoli secondi quando lo rimontai fece due scatti pensavo di essere il nuovo breghet in realtà erano due scatti che non so che cosa fossero dovuti forse il canto del cigno però diciamo così lo tengo come promessa che prima o poi mi metterò lì a capire veramente come funzionano i movimenti e veramente provare a ripararli questo è veramente pacottiglio però ci sono in qualche modo affezionato anche a lui tempo pazienza e costanza ci vogliono per imparare a fare questo a smontare un movimento cioè a fare l'orologio cioè a fare l'orologio è un parolone grosso semplicemente a smontarne uno rimontarlo ci vuole dedizione dai non è che si può improvvisare conosco persone che da zero ci sono messe con la passione boom e hanno fatto il brigato le conosco ci sono io non sono non ho il tempo non ho voglia sinceramente di mettermi a fare il meccanico dell'orologio lo lascio fare a chi lo sa fare di professione lì mi è sufficiente capire avere un'infarinatura di come funziona un orologio capire cosa succede perché per come poi il resto anche no non è che si può fare tutto nella vita dopo questo russo sono invece sbarcato anche grazie al tuo canale devo dire su Vostok ho trovato questo comandieschi rosso mi è piaciuto subito il colore non mi sono chiaramente te questo video l'hai inviato prima del mio video dove ho preso questo orologio qua perché c'ho anch'io niente niente di male è un bello orologio decente più che decente a parte il bracciale che è da staccare da buttare via vedo che te riesci ad utilizzarlo ma per l'amor del cielo ho posto troppi interrogativi l'ho comprato l'ho comprato ammetto che sappiamo che siano orologi di fasce economiche abbastanza contenute però nonostante questo mi aspettavo sinceramente un pochino più di qualità non so se sia stato sfortunato io o altro la cassa è finita bene il bracciale è finito bene la corona devo dire che dopo 3 o 4 volte che l'ho usato e non l'ho mai usato in acqua ma l'ho sempre usato in esterna la corona sta cominciando a cedere quindi non so appunto se sia stato sfortunato io o meno comunque ma no ma non è che cede la corona l'ho spiegato anche nel video l'avrei visto quindi adesso sarai conscio non è che cede perché la corona si muove perché non è solidale alla tige è fatta in modo che anche quando poi lo avviti la tige diciamo la tige la tige rimane scollegata leggermente ammortizzata rispetto alla testa della corona e gli urti non vanno ad inficiare a colpire direttamente il calibro interno non è che ha ceduto sono tutti così è fatto apposta detto questo un comandirsky che secondo me fa anche lui come tutti gli altri miei però vabbè di parte ovviamente fa la sua parca figura al polso dopo questo l'acchiappo dell'anno scorso è stato il prx amore a prima vista io l'ho preso verde un orologio che abbiamo visto tante volte sul tuo canale finiture meravigliose lo adoro lo uso tanto anche lui c'è niente da dire insomma ci sono già un sacco di commenti in merito e poi invece il mio regalo dei 30 anni che però ho dovuto aspettare i 38 per farmi che è quello che ho il polso che ormai da quando ce l'ho io l'ho scelto il mio moonwatch con versione vetroplastica e fondello pieno credo che non me lo scollerò mai finché non non ne troverò un altro grazie mille ancora grazie a te buonasera a tutti ciao 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 il regalo dei 30 anni che però si è comprato ai 38 ma che minchia vuol dire e allora di che è il tuo regalo dei 38 anni non stare a dire che vabbè ascolta lì il discorso su Comandieschi che ti è spaventato che hai visto la corona mollenchica poi mi è venuto in mente un'altra cosa scusa ma non è che devi aspettare che esca il mio video illuminatore che ti faccia capire che la corona così va bene cioè ci sono anche altri canali che fanno video sui vostri oppure semplicemente online scritte ci sono un sacco di recensioni e ovunque ti verrà spiegata questa cosa quindi ti non hai mai approfondito cioè ti ti compri un orologio senza poi approfondire prima sarebbe meglio oppure dopo una volta che l'hai preso fammi capire un po' cosa c'ho in mano come diceva Cicciolina e vai lì studi e dici ah ecco c'è il calibro così ah il fondello è fatto così ah la corona è normale che è così ma meno male oppure vedi il problema la corona e scrivi su google problema corona Vostok e vedi fuori che tutta la gente che ti fa le pernacchie ti dice non c'è nessun problema invece non lo fai per cui ritengo quasi inutile la tua voglia di mettere le mani dentro all'interno di un calibro quando non hai nemmeno lo spunto di informarti sulle cose esterne sulla scocca su quello che è l'orologio in sé capito approfondire inizia prima approfondire le cose basilari poi dopo passi al calibro perché sennò è come costruire una casa dal tetto no vabbè sono stato cattivo se sono stato cattivo non scrivete niente se sono giusto se io sono un giusto tra i giusti scrivete 9 sotto 9 9 vuol dire che io ho ragione detto questo ti do un 6 e mezzo ti do ti do un 6 e mezzo perché mi sei un po' scaduto con la cosa lì della corona vabbè 6 e mezzo sarebbe stato un 6 tutto l'insieme di un baradano però alla fine si è salvato con lo speedmaster del 38esimo 3 barra 30esimo compleanno c'è un lasco di 8 anni quindi 6 e mezzo ti do ma di più non posso ragazzi non è che io devo sempre promuovere tutti così il 6 politico il 7 politico l'8 politico il 10 politico vorrei essere tutti 10 così vi si rivaluta la collezione ma niente niente di tutto questo ragazzi io basta adesso devo andare a vedere i gattini su Instagram e nel mentre pettino le bambole e vai vi ringrazio comunque per essere arrivati fino a qua e lo capisco se siete arrivati fino a qua dal 9 che scriverete sotto hai capito se siete arrivati fino a qua c'è il 9 quindi 9 te sei arrivato fino a fondo bravo ti meriti un cuoricino io vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love grazie a tutti Grazie a tutti.